Ora vi presenterò il lotto numero 420 della 117 massa della casa d'asse Sant'Agostino di Torino. L'autore è Turi Simeti, pittore siciliano nato ad Alcamo nel 1929, tuttora attivo in Italia, vive e lavora a Milano e ha anche una stupenda casa a Rio de Janeiro. Dal 1980 trascorre l'inverno a Rio de Janeiro. Il titolo è Quattro ovali rossi del 2000, le dimensioni sono 150x120 e un acrilico rosso su tela, sagomata e stroflessa. L'opera è firmata e datata al retro. Vorrei dirvi due parole sull'attività di Turi Simeti. Lui lascia la Sicilia già nel 1958, quindi nei primi anni 60 si trasferisce a Roma, dove comincia a dipingere da autodidatta. Soggiorna per lunghi periodi a Londra, a Parigi, a Basilea e quindi conosce tutte le principali collezioni che lì sono presenti in fondazioni private e pubbliche. Nel 1965 è invitato a far parte del gruppo Zero Avantgarde e si presenta per la prima volta a Milano all'atelier di Lucio Fontana. Quindi veramente Turi Simeti è inserito in tutta quella discussione artistica che si svolge intorno agli anni 60 in Italia con delle importanti riflessioni anche per quella che è l'arte internazionale ed europea. Noi sappiamo che a Basilea ci sono le più importanti collezioni forse di arte contemporanea dell'800 e del 900. si possono vedere stupendi Picasso e fantastici Cézanne. Quindi veramente il moderno che entra nell'arte contemporanea. Tra il 66 e il 69 soggiorna per lunghi periodi a New York e inizia anche a esporre alle principali fiere internazionali. Oggi noi sappiamo che Turi Simeti vive a Milano e anche d'inverno invece si trasferisce a Rio de Janeiro, come vi ho già detto. Vorrei leggervi una cosa che scrive di lui Luciano Caramel. La pittura di Turi Simeti è primariamente pittura spaziale perché è tramandata tutta sulla spazialità della superficie. Spazialità dinamica, mobile e perché dalla superficie coinvolge lo spazio esterno. Sul registo si controllano mentale ma fenomenicamente energetico, a suo modo inventivo e certo mai asintomatico, asservativo. Luciano Caramel sempre con queste sue parole ci fa capire perfettamente l'atmosfera di Turi Simeti. Vorrei farvi notare un'altra cosa nel quadro. Se la regia mi aiuta, come lavora proprio Turi Simeti? Ecco, sto cercando di guardarmi nel video per non impallarvi troppo. Perfetto. Turi Simeti lavora così. Allora, questa qui è il retro della tela. Come potete vedere, mette la firma e la data sul telaio, sulla traversina del telaio. E come fa queste estroflessioni? Proprio ponendo sulla traversina del telaio delle strutture di compensato. In questo modo la tela può uscire, riesce ad uscire e crea proprio questa spazialità e questo discorso volumetrico con la... Eccola qui, qui si vede benissimo. Vedete queste estroflessioni? Sono proprio fatte con il compensato che è posto sulla traversina del telaio. Eccoci qui. Elena Pontigia parla spesso di questi ovali di Turi Simeti. Ora non so se ho rimesso il quadro bene e se si vede... Ok. Primo ovali, secondo ovali, terzo ovali, quarto ovali. E via osservando una successione diversa di forme che si relazionano ad una tonalità innumerabile. In virtù di uno slaggio ad aprirsi, allargarsi, oscillare fino a ricomporre ogni distanza in un impulso ottico delle diverse forme in campo. Vorrei lasciarvi con queste parole di Elena Pontigia e vi vorrei ripetere il titolo. Quattro ovali rossi del 2000, 150x120, quindi un quadro importante, grande, acrilico rosso su tela sagomata estroflessa. L'opera è firmata datata al retro, come vi ho fatto vedere. La richiesta è di 10.000 euro. Telefonate al numero in sovraimpressione per fare un'offerta di base d'asta. Ora passiamo all'otto successivo. Ci sarà Michele che vi presenterà il prossimo lotto. Grazie a tutti.